Eliade, Bucharest 1907, Chicago 1986, è stato un classico ormai dello studio della religione comparata con la sua particolare morfologia ermeneutica, è stato anche un importante scrittore sia nel filone realistico sia in quello fantastico e autore, cultore per tutta la sua vita della prosa diaristica. Riflessioni, annotazioni, il diario quindi come genere letterario, come scrittura personale ma anche come appassionata lettura di altri diari, di altre esperienze letterarie. Fondamentalmente il diario per Eliade è testimonianza delle sue ricerche, dei suoi studi e quindi un laboratorio personale e questo è il primo punto. Più importante ancora è il diario come geografia spirituale e qui noi abbiamo Bucharest, abbiamo poi le scoperte giovanili in Italia, abbiamo il soggiorno indiano, il ritorno a Bucharest, l'esperienza portoghese tra il 41 e il 45 e poi l'esilio, l'esilio parigino iniziato nel settembre 1945 e infine Chicago in cui Eliade si sposterà nel 1956 e dove rimarrà fino alla fine della sua vita pur senza perdere i rapporti con l'Europa e con Parigi. Ora il diario del 1945-69 che qui proponiamo nell'accurata versione dal romeno di Cristina Fantechi con un utilissimo apparato di note esplicative a punti filologici ha una particolare importanza perché è testimonianza della svolta dell'esilio, il dramma della frattura con la madrepatria e la ripresa delle relazioni con gli amici romeni che aveva lasciato in Romania nel periodo interbellico tra i più importanti senz'altro Emil Cioran e Eugène Ionesco e poi l'incontro con altri romeni che avevano scelto la via dell'esilio, nello stesso tempo anche testimonianza dell'incontro e della frequentazione con personalità rilevanti della cultura francese dell'immediato dopoguerra, Georges Dumesil in primo piano ma anche Corbin, Bataille, Caioa e altri. Ma la cosa più importante forse e più interessante è la riflessione di Eliade sull'esilio come prova iniziatica, cioè come cifra esistenziale non eludibile del suo percorso creativo e infine elemento che si può ricostruire e il lettore trova in maniera feconda nel corso della lettura l'idea che nel diario si salvano dei frammenti di tempo concreto come dice Eliade, cioè ci sono degli elementi che spingono verso un esercizio di anamnesi e di dialogo continuo tra il proprio presente vissuto e l'affiorare del passato, dei ricordi del passato. Quindi questo testo ha un'importanza rilevante non solo per gli studiosi del pensiero dell'opera di Eliade sia come scrittore sia come storico delle religioni, ma anche per chi vede in questa figura un rappresentante di quel momento particolare di frattura nella storia dell'Europa che è stata la fine della seconda guerra mondiale, la costituzione della frattura tra est e ovest e quindi la guerra fredda contro quello che ha comportato e il tentativo da parte di figure più rappresentative e consapevoli di recuperare il rapporto tra le due Europe fratturate dalla guerra fredda.